Anche quest'anno l'Associazione Donatori Midollo Osseo promuove la giornata nazionale nelle principali piazze italiane per sensibilizzare la gente e migliorare i risultati già raggiunti. L'evento si terrà sabato. Nella nostra provincia i volontari saranno disponibili dalle 9 alle 22 a Messina, a Piazza Duomo e a Barcellona, a Piazza San Sebastiano, un gesto che può regalare la vita ad altre persone. Noi questa giornata la facciamo anche perché speriamo che le persone, avendo la possibilità di venire lì dove c'è l'auto-emoteca e di poter essere tipizzate, essere tipizzate vuol dire che si fa un semplice prelievo del sangue, non c'è bisogno di dare digiuno, basta avere dai 18 ai 40 anni in Sicilia, vengono lì, fanno questo prelievo del sangue e saranno inseriti nel registro donatore di midollo osseo. Poi, se c'è un ammalato di leucemia e che ha bisogno di un trapianto, si va a vedere se c'è questo donatore compatibile, lo si contatta di nuovo perché la donazione di midollo è volontaria, anonima e non retribuita, come ha detto la dottoressa Gioffrida. Si vede se c'è un donatore compatibile, si chiede ancora se vuole farlo, se vuole veramente donare, e dopo di che verrà sottoposta al prelievo di midollo. Oggi non è più la pratica che si faceva una volta con l'anestesia totale e attenzione, non confondiamo midollo osseo con midollo spinale, sono due cose completamente diverse. Oggi si fa come con una semplice feresi, si sottopone il donatore al prelievo delle cellule staminali e poi si infondono all'ammalato. A Messina, grazie alle iniziative dell'Admo, nel 2011 si sono fatti avanti 45 nuovi donatori, 67 invece nel 2012. Numeri molto simili anche a Milazzo ed intanto negli ospedali, come accade al Pavardo, c'è chi tenta di strappare un sorriso. Vogliamo trasmettere a coloro che passano, soprattutto ai giovani tra i 18 e i 40 anni, questa gioia di donare e soprattutto di poter dare la possibilità a una ragazza, un bambino, una persona adulta di poter rinascere, perché grazie alla donazione al midollo osseo si può avere una seconda opportunità nella vita. È un dare e ricevere costante, perché anche da chi non te l'aspetti, invece alla fine del servizio magari ti regala un sorriso.